Il San Nicolò torna con un pari da Sant'Egidio nella sfida contro il Monticelli che finisce 2-2 con tanto di gol regalato dalla squadra bianca-azzurra a pedalino dopo la rete del 2-1 messa a segno tra le polemiche. Nel San Nicolò che cerca riscatto dopo il K.O. contro il Matelica fa il suo esordio dal primo minuto Filippo Boccanera. Epifani varia qualcosa rispetto alla gara precedente con l'inserimento di Traini in attacco al posto di Testi. Il Monticelli è invece decimato dalle assenze e è reduce dal pari contro la Vastese. La squadra di Stallone parte bene dal punto di vista della manovra ma nel corso del primo tempo non riuscirà a creare nessun pericolo dalle parti 18 allenandosi spesso e volentieri una volta arrivata ai 16 metri. Il San Nicolò prova invece a salire a suon di calci piazzati e proprio da un calcio di punizione arriva il vantaggio per la formazione di Epifani. E' bisogna andare alla battuta con una traiettoria che inganna Alessandrini che ci mette del suo e si insacca sotto la traversa. E' il primo gol in campionato per l'ex Avezzano che poi uscirà per infortunio lasciando il posto a chiacchiarelli. Il San Nicolò ci prova di nuovo poco più tardi da un nuovo calcio di punizione, questa volta battuto da Napolano. Il pallone però finisce di un soffio a lato. Nel Monticelli degli ex Sosi, Donatangelo, Terrenzi e Forgione è proprio quest'ultimo a far vedere le cose migliori. Poco dopo la mezz'ora però Napolano ispira per Mozzoni il cui sinistro finisce sulla traversa. Nel recupero ci prova Pedalino ma il suo tiro viene accompagnato fuori da Ciotti. Nella ripresa il Monticelli prova a far salire il baricentro e Ciotti si deve allungare su un calcio di punizione battuto da Forgione per evitare guai. La gara poi si accende. Boccanera atterra in area Iotti. Per il direttore di gara è calcio di rigore che Pedalino in estate vicino al San Nicolò trasforma. La scuola di Epifani rimane anche in dieci perché lo stesso Boccanera era già stato ammonito. Dopo due minuti succede di tutto. Traini insacca alle spalle di Alessandrini da un fallo laterale che per fair play avrebbe dovuto vedere Biancazzurri restituire palla. Incappo si accende il parapiglia ed Epifani dà l'ordine alla ripresa del gioco di far segnare Pedalino per il 2-2. Gesù è ci prova poco dopo ma il suo tiro finisce alto. Il Monticelli proverà anche una sorta di forcing ma senza esito. A chiudere avanti è il San Nicolò. Stivaletta di testa alza di un soffio alto un buon calcio di punizione. Poi più nulla. Il San Nicolò tornerà subito in campo mercoledì in casa della Vezzano nel turno di Coppa Italia. Mister è una gara molto strana giocata tanto sul filo dei nervi. Che commento hai alla fine? Una partita che avevamo in pugno fino a... Avevamo in pugno. Abbiamo giocato una partita secondo me contro una squadra ostica dove ci sono stati un paio di interventi all'inizio dove si è alzato un pochettino l'asticella di una partita di calcio quando dovevamo pensare solo a giocare. La squadra l'ha fatta, abbiamo fatto gol, abbiamo avuto l'occasione di Mozzoni. Credo che nel primo tempo eravamo padroni del campo. Purtroppo il calcio è così e su un errore che abbiamo fatto un ragazzino 98 calcio di rigore. Espulsione, le partite cambia però la squadra ci ha creduto fino alla fine e ha cercato di portare a casa il risultato pieno. Dici la tua sul gol dei traini? Ha sbagliato, le polemiche qui Casini e tutti quanti dicono la sua. Ha sbagliato, il ragazzo lo dobbiamo fucilare. Ha sbagliato, gli abbiamo rifatto fare gol come è giusto che sia, però non dobbiamo accendere un po' il Verone che non esiste. In quel momento il ragazzo ha sbagliato e lo possiamo fucilare. L'onestà del calcio, gli abbiamo rifatto fare gol. Peccato per la palla di stivaletta di testa alla fine che potevamo vincere la partita. Però da sottolineare la capabilità della squadra che in 10 in un campo difficile e anche non ben messo abbiamo cercato di non solo difenderci ma di cercare di vincere la partita. Immagino che sia un pareggio che non ti soddisfa dopo il K.O. contro il Matelica. Assolutamente no, perché poi tra l'altro la stavamo facendo bene. Però le partite bisogna chiuderle. Poi purtroppo quando le tieni sull'1-0 può capitare l'episodio. Abbiamo preso il rigore contro, l'espulsione, le partite cambiano totalmente. Ci portiamo a casa a questo punto e continuiamo a lavorare perché soltanto il lavoro ci potrà portare dei frutti importanti. Mister, ovviamente la prima domanda è sul gol di Traini che ha scatenato lei, ha scatenato anche il Monticelli. Sì, un atto che dobbiamo essere onesti lo dobbiamo stigmatizzare perché se no facciamo finta di niente. Il calcio è calcio, il calcio è fatto di competizione, il calcio è fatto di rivalità, però esiste anche lo sport. Quindi esiste un'etica, esistono delle regole, dei valori sportivi. Secondo me Traini ha dimostrato di non averli, ha avuto un comportamento pessimo che va stigmatizzato, va sottolineato, negativissimo che ha rovinato la partita. Una partita tra due fquare che hanno onorato in ogni caso il calcio, che purtroppo oggi secondo me non hanno dimostrato entrambe la qualità che hanno, un pochettino per le condizioni del campo, che era un pochettino un tipo di erba dove non c'era la circolazione della palla facile perché se no noi giochiamo un calcio migliore e anche il San Nicolo gioca un calcio migliore. Quindi è stata più una partita a questo punto di grinta, di ritmo, di intensità e meno di carattere tecnico. Però per fortuna, oltre all'episodio che dobbiamo stigmatizzare di Traini, c'è anche un altro episodio molto bello che il San Nicolo, oltre ad avere un grande giocatore che è il suo capitano, ha un grande uomo che si chiama Petronio al quale vanno fatti i miei complimenti perché esistono ancora uomini che credono al sport e portano avanti i valori veri dello sport. Tanti complimenti a Petronio.